Ophelia Malinov, l'Italia ha battuto 3-0 il Porto Rico, non è stata una passeggiata, partita vera e combattuta? Sì, è stata una partita tosta e ci hanno messo in difficoltà, ma la cosa positiva è che siamo riusciti a recuperare in tutti e tra i set e venirne fuori, quindi si è visto proprio la voglia di vincere, il carattere che è venuto fuori e soprattutto penso che ci siamo rese conto anche che quando imponiamo il nostro gioco la differenza la facciamo noi. Tutti i set c'è stato da combattere, però nel finale l'Italia ha sempre trovato qualcosa in più? Sì, sì, penso che esatto, si è visto la voglia di vincere, soprattutto ci siamo divertite e sciolte un po' di più verso la fine, quindi questo è assolutamente positivo, quindi buono tutto quello che c'è stato perché bene anche che ci abbiano messo in difficoltà, proprio perché arriveranno partite molto più toste che dobbiamo saper gestire e si passa anche da questi momenti. Il tuo esordio, c'è sempre un po' di emozioni nonostante sei una veterana di questa nazionale, possiamo dire? Sì, l'emozione c'è sempre, infatti all'inizio si sentiva un po', ma poi con il passare dei punti abbiamo rotto il ghiaccio e è andata bene. È sempre un mondiale, si gioca ai massimi livelli, quindi l'emozione fa parte anche del gioco. Domani il Belgio, una sfida non facile? Sì, domani abbiamo il Belgio, che è una squadra che sta a mettere in difficoltà. Penso che oltre a cercare di limitare loro, bisogna entrare e spingere dall'inizio alla fine, cercare di alzare il nostro livello, proprio in virtù delle prossime partite importanti e soprattutto per non complicare una partita che può risultare tosta.